Secondo uno studio di Mediobanca, i 10 più importanti gruppi del settore manifatturiero quotati in borsa hanno complessivamente 84 miliardi di euro di fatturato. Impietoso il raffronto con i 10 più importanti gruppi manifatturieri tedeschi, francesi e inglesi. I tedeschi hanno un fatturato di 767 miliardi di euro, i francesi 327 miliardi e i britannici 180 miliardi. Per fare un altro raffronto, i 10 big italiani producono il 5,1% del nostro PIL, mentre i tedeschi pesano per il 25% del prodotto interno lordo della Germania. Neanche dal punto di vista delle performance le cose vanno meglio. I margini industriali delle 10 aziende italiane sono crollati del 30,5% dal 2012, mentre quelli delle aziende tedesche e francesi sono cresciuti rispettivamente del 21,9% e del 35,7%. Sul fronte degli utilinetti poi i big tedeschi hanno registrato 200 miliardi, i britannici 103 miliardi, i francesi 96 miliardi e gli italiani appena 4. Bastano questi pochi numeri per spazzare via la retorica dei politici italiani secondo i quali avremmo il secondo settore manifatturiero europeo dopo la Germania. Anni di malgoverno, una pressione fiscale insostenibile e le continue delocalizzazioni hanno devastato il tessuto industriale italiano. Hanno fatto un deserto e lo hanno chiamato Unione Europea. Domenica 30 luglio i venezuelani saranno chiamati a votare i membri dell'Assemblea Costituente. Un appuntamento, afferma il giornalista Beto Almeida alla TV Sida Delivre, intriso di simbolismi. Gli Stati Uniti, in forma arrogante e prepotente, non accettano che il Venezuela realizzi un'elezione democratica attraverso il voto popolare, aggiunge il giornalista. Il Comitato Internazionale per la Pace, la Giustizia e la Dignità dei Popoli denuncia le minacce di Trump, riprese dall'Unione Europea di Federica Mogherini, di applicare sanzioni in caso di realizzazione della Costituente ed accusa l'opposizione di destra di spingere verso un cosiddetto intervento umanitario degli USA in Venezuela, uguale a quelli in Afghanistan, Iraq, Siria, Libia e che hanno provocato milioni di morti. Maduro dichiara, non siamo più ai tempi del colonialismo. E riferendosi a dichiarazioni del direttore Mike Pompeo, aggiunge, la CIA prepara un golpe in Venezuela con la complicità del Messico e della Colombia. Arrivano le smentite, ma l'allestimento di un governo illegale messo su in tutta fretta è una realtà, tant'è vero che proprio in queste ore anche il Parlamento italiano, su richiesta del PD, sta prendendo posizione a favore del governo parallelo. Il Consiglio elettorale nazionale ha disposto misure di sicurezza, dopo le minacce della destra, di impedire con la forza ai cittadini di votare. Ci impegniamo ad ottenere un cessato in fuoco e ad usare le forze armate solo ed esclusivamente in operazioni antiterrorismo. Questa è la dichiarazione congiunta del primo ministro libico Fayez al-Sarai e del generale Khalifa Haftar, ospitati martedì 25 luglio dal presidente francese Emmanuel Macron. A presiedere ai colloqui il nuovo inviato ONU in Libia, Gassan Salamè. L'accordo prevede nuove elezioni nazionali per la primavera del prossimo anno, un riconoscimento indiretto del fallimento del governo Serrai. Osservatori libici sono scetici rispetto alla tenuta degli accordi, considerata la miriade di gruppi in cui la Libia del dopo Kheddafi si trova divisa, parte dei quali supportano il governo Serrai, altri invece il generale Haftar, forte nella parte est del paese. Macron parla di causa della pace, a guidare i colloqui. In realtà si può ben dire che la sua causa si chiami petrolio e gas. Per questo la prima ad essere indispettita dall'incontro di Parigi è l'Italia, partner energetico diretto della Libia. Roma è già irritata dal traffico illegale di migranti che passano per la Libia in assenza di un governo forte. In più, sul fronte energetico, il rischio è che il nuovo governo libico nazionalizzi le infrastrutture, revuchi le concessioni a Eni e ne affidi la gestione ai francesi, sempre più agguerriti nel ridimensionare l'Italia nell'ambito euro-mediterraneo. In seguito alla riforma giudiziaria della Polonia approvata dal Senato il 22 luglio, la Commissione europea manda una lettera di raccomandazioni al Presidente polacco Andrzej Duda, intimando di evocare l'articolo 7 del Trattato di Lisbona nel caso si proceda con il licenziamento dei giudici, una linea rossa da non attraversare. La riforma scatenò subito l'ira di migliaia di cittadini, riversatisi nelle strade per difendere l'autonomia del sistema giudiziario e preoccupati da una deriva anticostituzionale guidata dal partito di maggioranza di Jaroslav Kaczynski. Il Presidente Duda ha 21 giorni di tempo per decidere se firmare o meno la legge, che probabilmente darebbe alle forze filousa e filonato al potere un'autorità maggiore rispetto a quella che già hanno. Ricordiamo infatti che sotto l'attuale prima ministra Beata Asceduo, che dal suo sito web si vanta di essere stata addestrata dal Dipartimento di Stato statunitense, la Polonia ha spedito in carcere dal maggio 2016 il deputato Mateusz Piskowski, tuttora detenuto con le accuse naturalmente mai provate di spionaggio per Russia, Cina ed Iraq. In realtà reo di aver espresso opinioni contrarie alla Nato. L'FBI e la NSA, Agenzia Nazionale per la Sicurezza Statunitense, hanno violato varie volte le libertà civili nel corso dell'amministrazione Obama, spiando massicciamente i propri cittadini senza curarsi di cancellare le intercettazioni non autorizzate, secondo gli appunti desecretati in questi giorni scoperti dalla Unione Americana delle Libertà Civili. I documenti riguardano la violazione delle norme sulla privacy tra il 2009 e il 2016. Risulta che le due agenzie di spionaggio non hanno rispettato le loro stesse regole. L'FBI e la NSA hanno violato le restrizioni sulla raccolta di dati con molti utenti coinvolti per lunghi periodi di tempo. L'Unione Americana delle Libertà Civili denuncia le tante scappatoie che consentono innumerevoli abusi e fanno carta straccia delle norme sulla privacy. La legge statunitense consente la sorveglianza senza garanzia di individui stranieri e la rapida distruzione dei dati raccolti accidentalmente sui cittadini statunitensi coinvolti. Che si tratti di un sistema e non di semplici incidenti lo spiega proprio il fatto che i dati raccolti sui cittadini non vengono distrutti ma scambiati e maneggiati a lungo nella comunità dell'intelligence, con il pretesto del terrorismo, a fare da grimaldello per scassinare ogni garanzia. Grazie a tutti.